Ciao a tutti, io sono Nelia e bentornati in questo nuovissimo video. In questo tag in realtà che mi aiuta un po' a fare il bilancio delle letture che ho affrontato finora, in questa prima metà dell'anno. Partiamo subito, allora, io ovviamente qui ho il mio fellettino con le domande. Migliore lettura fatta finora? Io non potevo non citare Gli ultimi giorni dei nostri padri di Joel Dicker, arriverà una recensione molto molto presto, poi è finita come è finita, perché questo libro è stato molto doloroso, è stato pieno di sofferenze, vabbè. Seconda domanda, miglior sequel letto finora? Per rispondere a questa domanda ho scelto il terzo volume del Trono di Spade di George Martin, nonostante in questo volume succeda una cosa che mi ha colpito nel profondo. Ovviamente non lo dico perché magari qualcuno non c'è ancora arrivato, nonostante sia il terzo è comunque un sequel, quindi questo è il migliore che abbia mai letto quest'anno. Terza domanda, nuova lettura che vorresti leggere quest'anno? Allora io ovviamente la trilogia di Akotar di Sarah J. Maas. In Italia sono usciti solo i primi due, Akotar e Akomov, io ovviamente li aspetto in italiano perché non ho un livello alto di inglese, quindi preferisco leggere in italiano, almeno i fantasy. Quarta domanda, uscita più attesa il 2019, ovviamente la trilogia di Nevernight di G. Christophe. Io li sento parlare benissimo sul web e io non posso non lasciarmi scappare, quindi aspetteremo settembre, aspetterò con molta ansia io ovviamente settembre. Io ovviamente devo leggere per forza perché devo capire tutto questo entusiasmo che c'è in giro su internet perché veramente c'è tantissimo entusiasmo per questa trilogia. Quinta domanda, delusione più grande di quest'anno? Purtroppo è stata Origine di Dan Brown. Io ho insistito a volerlo comprare, a volerlo reggere. Ovviamente sapevo già che non era all'altezza dei precedenti di Dan Brown, quindi ho detto vabbè, io comunque vorrei leggerlo perché voglio concludere, diciamo, il ciclo di Robert Langdon e quindi lo volevo leggere comunque, però è stata comunque una delusione anche se mi aspettavo. Stessa domanda, sorpresa invece più grande di quest'anno? Io ovviamente rispondo con La donna dei fiori di carta di Donato Garrisi. Sento parlare sempre bene di Garrisi, però su questo libro avevo delle aspettative molto molto basse, non so perché, però ho voluto comunque provare. E in realtà sono sorpresa perché, appunto, ripeto, avevo delle aspettative molto basse, ma in realtà si è arrivato tutt'altra cosa e davvero è stata una grandissima sorpresa per me. Settima domanda, autore preferito, che sia emergente o non, che sia nuovo oppure no? Ovviamente io scelgo sempre Pier Giorgio Pulisci, ovviamente farò un video su Pier Giorgio Pulisci anche perché è uscito il nuovo romanzo suo, no? Da poco e l'ho già letto in realtà, ci ho messo tipo quattro giorni, però vabbè, questo discorso a parte. E voglio fare un video su Pier Giorgio perché se lo merita. Ottava domanda, crush. La mia crush di quest'anno è stato Paul Emil, degli ultimi giorni di nostri parti di Joel Dickert, io mi sono letteralmente innamorata di lui. Nona domanda, personaggio preferito di questa metà anno. Ho scelto Iris del matrimonio delle bugie di Kimberli Bell. Iris è una grandissima donna, forte e intelligente, che non si fa mettere i piedi in testo da nessuno e tanto meno dalle sue emozioni, nonostante si sia fatta molto prendere inizialmente dalle sue emozioni e ai suoi sentimenti, perché ovviamente è successa una cosa molto tragica nella sua vita, però si è ripresa molto molto bene e per questo è anche una donna molto molto forte e molto coraggiosa. Numero dieci, libro che ti ha fatto piangere. Strannamente rispondo con The Hunger di Anamakatsu, non perché la storia faccia piangere in sé, però alla fine, a parte che siamo arrivati alla fine di un viaggio molto tartaglioso, ma proprio tanto, leggere la fine mi ha fatto emozionare. Ligo tutte le recensioni che ho già fatto, vi elenco su delle schede la recensione di video che ho fatto. Vabbè, cioè, dopo tutto questo casino, sono contenta che sia finito in questo modo. Undicesima domanda, libro che ti ha reso felice? Allora, un libro che mi sta rendendo felice in realtà, perché lo sto ancora leggendo, è A Volta Ritorno di John Neven. Bene, farò una recensione per la finirò, anche perché sarà molto breve, perché questo libro è molto semplice e anche molto molto divertente, quindi lo leggerò velocemente, cioè io veramente scoppio a ridere, scoppio a ridere spesso e volentieri leggendo questo libro. Però ci sono ovviamente anche delle cose serie che si trattano in questo libro e ovviamente, sì, Gesù c'entra, anche Dio e tutti i santi. Ve ne parlerò meglio nella recensione, perché ci tengo tantissimo a fare determinate riflessioni che sto percependo da questo libro. Magari nessuno o pochi hanno tratto. Dodicesima domanda, il miglior film basato su un libro? Allora, io in realtà quest'anno ho visto pochi film e non ho visto nessun film nuovo, diciamo, tratto da libri. L'unico che in realtà è stato un rewatch è questa meraviglia. Il collezionista di ossa di Jeffrey Diver, il film ovviamente ha lo stesso titolo, e è l'unico, quindi devo forse citare questo. Tredicesima domanda, video recensione preferito che hai fatto quest'anno? Allora, il mio preferito è stato la recensione di Notre Dame de Paris, che vi lascio sulle schede, è solo qua o di là, non mi ricordo, vabbè. Sì, è stato il mio preferito, anche perché ha fatto un grande successo, bye, perché ha fatto, sopra le 100 visualizzazioni, mi sa, 140? 135, insomma, quei numeri lì più o meno, ed è stato uno dei video più visti del mio canale. Io sono molto, molto contenta anche perché ci tengo molto a quel libro e a quel video. 14. Miglior libro comprato o regalato? Allora, il migliore ovviamente nel senso di bello, credo di aver capito così. Ovviamente io rispondo con Il Signore degli Anelli, il primo libro in inglese questo. È bellissimo, io voglio anche tutte le altre edizioni di questo libro, compreso l'Hobbit ovviamente, perché sono, tipo, bellissime, anche perché costano, tipo, poco, quindi io ho pagato, tipo, 12 euro. 15. Libro che devi leggere entro l'anno? Ovviamente io ripeto la trilogia di Nevernight e la trilogia di Akotar, che ovviamente leggerò in italiano. Devo leggere anche Il Sognatore e poi il seguito La Musa degli Incubi, perché ne sento parlare veramente bene. Bene, questo video finisce qui, spero vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un like, iscrivetevi al canale se non ancora l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video e non ci vediamo alla prossima. Ciao! 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 Ciao!